Sono il connero Giuliano Giuseppe e sono qui in Kosovo con l'incarico di direttore del centro amministrativo di intendenza. Il centro amministrativo di intendenza non è altro che il braccio amministrativo del contingente qui presente in Kosovo e più ad ampio raggio nel teatro balcanico, in quanto supporta tutto il personale sia in termini di trattamento economico sia in termini di esigenze di funzionamento di quelle che sono le attività operative per svolgerle al meglio delle proprie capacità. Tutto ciò naturalmente compatibilmente con quelle che sono le risorse finanziarie assegnate dal nostro Parlamento. Le maggiori attività che vengono svolte naturalmente riguardano tutte le attività di fixing e affixing, quelli che sono i siti molto sensibili, ma ritengo che in questo momento storico fortunatamente ci sono dei segnali estremamente positivi a che certi tipi di attività siano praticamente molto più leggere rispetto al passato. Quindi ritengo che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, il nostro contingente che ha già fatto in maniera egregia il proprio lavoro potrà avere l'orgoglio di aver contribuito in maniera estremamente effettiva a una stabilizzazione di un'area molto delicata, ma soprattutto vicino a casa nostra.